Il libro ha cambiato la sua vita, lei ne ha letti tanti, ne ha 15 mila dicevo, come hanno influito su una crescita umana e professionale su Gennaro San Giuliano? Ma io sono nato in una città difficile, la città di Napoli dove tanti ragazzi, i miei coetanei si sono persi, diciamo che il fatto di leggere sin da bambino mi ha migliorato tantissimo e mi ha consentito di intraprendere un percorso di vita virtuoso. Alcune immagini che arrivano dal Salone del Libro di Torino che si chiuderà tra poco, autori, scrittori, libri, critici molto pubblico e poi siamo collegati questa notte con il professor Savonardo, siamo a Napoli, lei è un docente universitario, ma qual è il suo rapporto personale con i libri? Qual è stato il suo rapporto con i libri? Quale sarà il suo rapporto con i libri? Ha visto queste immagini che arrivano dal Salone del Libro di Torino? Credo che i libri siano un nutrimento straordinario dell'anima, dello spirito, delle emozioni attraverso i libri attraversiamo mondi culturali, viviamo altre vite, altre storie e riportiamo in qualche modo alla nostra memoria esperienze vissute da altri in cui ci riconosciamo. Io devo dire che ho un rapporto con i libri molto di carattere accademico, di ricerca, scientifico, perché leggo molto più saggi che mi sono utili per arricchire la mia cultura scientifica, sociologica, sui media, sulla comunicazione, sul cinema, sulla musica, sull'industria culturale, sui nuovi media digitali. In realtà non riesco a dedicarmi ad una lettura di piacere soltanto, ma molto spesso anche di studio e di ricerca. Preferisco forse per il piacere il cinema, la musica, ascoltare i dischi che preferisco o vedere dei buon film che in qualche modo mi rilassano, ma quando leggo in realtà sono più concentrato sulla letteratura scientifica che mi interessa. È mai stato al Salone del Libro di Torino, professor Savonardo? Al Salone del Libro di Torino non ancora, ma sicuramente ho frequentato diversi saloni del libro, qualcuno l'ho promosso, in qualche modo sono stato parte attiva di animazioni culturali che vedono al centro della riflessione l'uso del libro, ma anche delle forme diverse di lettura e di scrittura creativa, crossmediale, che ormai in qualche modo attraversano non soltanto il cartaceo, ma anche le forme multimediali di consumo della letteratura. Un libro che le ha cambiato la vita? Sicuramente i fiori del male di Baudelaire, ero studente e quando lessi appunto le sue poesie nei fiori del male rimasi veramente molto approfondamente emozionato e travolto da quei versi. Ecco, professor Savonardo, prima parlavamo del libro che ha cambiato la sua vita in un certo senso, l'ha cambiato in senso positivo ovviamente, diceva. Sì, credo che i libri tirino fuori in qualche modo le nostre emozioni più potenti, più significative, più rilevanti, per cui è sempre positiva la lettura nel senso di crescita, nel senso di nutrimento, ma non sempre le emozioni sono positive, talvolta ti turbano, talvolta ti disorientano e a me piace molto quando un libro ti disorienta, quando appunto le poesie di cui parlavo prima mi emozionavano come continuano ad emozionarmi ancora oggi e quindi nel bene e nel male appunto i fiori del libro. Professor Savonardo, il libro che si mette in mostra, che cosa le fa dire? Credo che sia una buona pratica quella di mettere in mostra il libro, perché significa mettere in mostra la cultura, la scrittura, la capacità di narrare di noi esseri umani che riusciamo in qualche modo a raccontare noi stessi attraverso storie in cui altri si riconoscono. È molto bello pensare che, diciamo, la scrittura sia uno strumento per far vedere, immaginare ad altri qualcosa che non hanno mai visto, perché attraverso la scrittura è possibile portare, per citare qualcuno, il mare dove il mare non c'è. Cosa chiede ad un libro? Cosa cerca in un libro? Professor Savonardo. Devo dire che da studioso cerco le risposte che in qualche modo possano soddisfare le mie domande, i miei interrogativi di ricerca, di studio, di approfondimento, ma so già che non le troverò, perché tutte le volte che continuo a leggere mi rendo conto di essere ancora un ignorante, cioè di non aver ancora colto tante sfumature della cultura che intendo approfondire, per cui ho sempre più sete di approfondire, di leggere, di cercare nuove risposte con nuovi interrogativi. Allora, professor Franceschi, professor Bovalino, professor Savonardo, siamo di notte. Avete un libro sul comodino a quest'ora o no? E lei, professor Savonardo? Beh, devo dire che evito di tenerli sul comodino, perché per me sono veramente un'occasione di lettura per il mio lavoro e quindi talvolta, diciamo, li tengo sul comodino, ma non per dormire o per riposare, ma soprattutto per continuare a leggere, a riflettere sui temi che in qualche modo devo analizzare e approfondire per la scrittura di nuovi libri, perché in realtà è da molti anni che leggo soprattutto richiamando i classici libri che ho già letto in passato, libri che mi sono arrivati dai colleghi per scrivere nuovi saggi, nuovi capitoli, nuovi miei libri. Per cui in qualche modo non riesco più ad associare la lettura semplicemente al piacere, al relax, ma soprattutto al lavoro. Per questo prima dicevo che mi riposo o mi rilasso soprattutto con la musica e con il cinema, mentre con i libri continuo sicuramente ad approfondire la cultura che mi interessa di più, quella scientifica, e però in ogni caso lo associo, diciamo, il libro al lavoro soprattutto. Allora, dicevo, professor Bovalino, professor Franceschi, professor Savonardo, i libri si educano. Non avete mai regalato libri per sedurre qualcuno? Professor Savonardo? Assolutamente sì, anzi, diciamo che sono uno strumento di seduzione straordinario, perché io credo che la seduzione passi soprattutto attraverso la mente, l'intesa intellettuale, l'intesa che c'è tra persone che hanno degli interessi comuni. E quindi i libri sono un'occasione non soltanto per scoprire gli interessi dell'altro, ma soprattutto per suggerire, diciamo, un confronto sui propri. Per cui credo che sia un elemento di confronto e di seduzione sempre attraverso la scrittura, attraverso le emozioni che la scrittura in qualche modo esprime, ma anche attraverso le curiosità e gli interessi. Quindi sì, assolutamente sì. Ritorniamo ai nostri amici docenti, docenti universitari, ma cominciamo dal professor Franceschi, poi il professor Bovalino e poi ancora il professor Savonardo. Secondo voi, professor Franceschi, che futuro avranno i libri, le tecniche, i linguaggi stanno cambiando? Ma il libro di carta avrà sempre una presenza nella nostra vita? Professor Savonardo? Il libro cartaceo ha un fascino straordinario, ma non possiamo chiaramente trascurare il fatto che le tecnologie digitali ci stanno portando a consumare contenuti culturali in modo diverso. Anch'io qualche anno fa leggevo tre giornali cartacei al giorno, oggi inevitabilmente per informarmi navigo in rete e raggiungo le notizie in modo più efficace, diretto e a talvolta anche in profondità senza dover comprare il giornale cartaceo. Ma sicuramente, nonostante le modalità con cui probabilmente bisogna avvicinare anche i giovani alla lettura attraverso le tecnologie digitali, le nuove forme di cross-medialità, di trans-medialità in cui appunto la scrittura, la narrazione può essere raccontata attraverso sì il testo, sì la scrittura, sì la parola, ma anche con iperconnessioni, con suoni, immagini che raccontano anche di più semplicemente della scrittura. In ogni caso, credo che l'esempio del vinile sia un esempio lampante, anche se l'evoluzione tecnologica ci porterà a scrivere e a leggere con formati e canali diversi da quelli del libro cartaceo, il ritorno alla fisicità, la necessità di toccare, di contenere le nostre storie all'interno di un contenitore che si può toccare, conservare, archiviare, così come per il vinile, probabilmente ci porterà a valorizzare nuovamente il libro. Professor Savonardo. Non mi sono mai posto questa domanda e secondo me sono sicuramente al di sotto dei mille, ma insomma un numero consistente tra vari libri, quelli del mio passato, quelli del presente, quelli che in qualche modo sono ancora dentro gli scaffali o a casa dei miei, insomma non so, non so precisamente, ma poi anche quelli digitali, insomma secondo me sono tanti, tanti. E lei, professor Savonardo? Ho scritto molti libri di saggi, diciamo della mia disciplina, qualcuno più impegnativo, altri anche più leggeri, interessanti dal punto di vista anche dei miei interessi musicali per esempio, e ho scritto anche molte canzoni, quindi forse sono più affezionato alle canzoni che ho scritto, che ai miei libri. Giallo Lorenzo.